Cari albergatori e cari albergatrici, cari dipendenti, cari appassionati di turismo, benvenuti ad un'altra edizione speciale nell'ambito di Fiera Hotel 2021 che si interrà dal 18 al 21 ottobre. Io sono Alexandra Silvestri e in questo nuovo numero di Future Talks, il podcast per il settore alberghiero e dell'ospitalità altoatesina, parlerò con un ospite che di solito riesce a suscitare interesse nelle persone che gli stanno accanto per tutto ciò che ha a che fare con i vini. E vediamo se ci riusciamo anche se oggi ci vediamo o ci sentiamo solamente online. Ma mi sa che è ora che vi presenti il nostro ospite. Nome? Il nome è Andresi Nonner. Residenza? Attualmente sono residente all'Ion ma sono nativo della Val Gardena. Mestiere? Mestiere? Beh sommelier, docente e consulente di vino direi. Il mio posto preferito nell'albergo in un ristorante? Il mio posto preferito? Potrei dire seduto a tavola però per la professione che ricopro come servizio vini. E come vedo il futuro? Come vedo il futuro della ristorazione penso in tenda. Beh sicuramente è un futuro su cui bisogna lavorare, lo dico anche come attualmente docente dell'istituto alberghiero perché mai come in questo momento c'è bisogno di trovare energie, innovazione, cioè incentivare le giovani eleve, i nuovi camerieri del futuro ad avere passione e ad innamorarsi di questo mestiere perché è un po' un mestiere che sta vivendo una situazione molto difficile secondo me. Signor Senoner, benvenuto al nostro podcast. In un recente ritratto di lei ho letto è giovane, laborioso, attento alle tradizioni e ossessionato da quel elisir di felicità che è il vino. Uno dei suoi grandi obiettivi è quello di portare il tema del vino e le molte sfumature di questo argomento non solo ai suoi ospiti ma soprattutto anche ai giovani e forse anche meno giovani per appassionarli al tema vino. È un insegnante nella scuola alberghiera e anche un docente tramite l'associazione Sommelier dell'Alto Adige. Cosa associa questa tematica del vino o da dove nasce la sua passione per questo argomento e perché pensa sia così importante anche per il futuro, per i giovani, per l'Alto Adige? Ma è importante, in me è nato perché i miei avevano una struttura alberghiera in Valliardena quindi sono andato un po' già con quel tipo di DNA e man mano che il mio percorso però si è allargato ho deciso di percorrere un mio percorso quindi come Sommelier Professionista, come Consulente, come Responsabile Formazione per le istituzioni che lei ha nominato e secondo me è importante per il futuro perché proprio un domani comunque la ristorazione, il reparto di sala deve ritagliarsi un spazio maggiore nel senso che mai come negli ultimi anni abbiamo visto come chef il mondo della cucina sia diventato un mondo molto mediatico, anche quello della sommelierie con tutti questi esperti di vino sui social e penso che in questo momento manca ancora la sala all'appello di questa innovazione perché la sala ha tante bellissime sfumature ma devono essere colte e fatte valorizzare al meglio per far sì che un domani ci siano nuovi giovani disposti a sacrificare, sì perché comunque è un mestiere difficile e forse questo è il problema che abbiamo un po' perso il senso del sacrificio e quando finalmente i giovani capiranno cos'è il sacrificio allora sarà ancora più facile sposare la causa del lavoro di sala e magari portare delle gioie anche alla regione, al ristorante che loro gestiscono o per cui lavorano. Passiamo al vino adesso, come intenditore come vede il paesaggio vinicolo altoatesino e in che direzione si sviluppa? Cosa secondo lei anche possiamo aspettarci? Sicuramente il vino altoatesino negli ultimi vent'anni ha avuto una grandissima ascesa, tutti ne parlano in Italia e a poco a poco anche nel mondo grazie anche a un grosso lavoro che sta facendo il consorzio Vini Alto Adige. Sicuramente la strada che stiamo percorrendo è quella che l'Alto Adige si sta ritagliando una sua identità a livello di stile vinti vinicolo nel senso che molto spesso tutti paragonano i loro vini a grandi paesi del mondo come la Borgogna, Bordeaux. Invece l'Alto Adige dovrebbe andare sulla sua identità e non cercare più di nascondersi dietro magari a famosi vini francesi perché ha il territorio e le persone per far sì che questa regione possa diventare davvero grande nel mondo. Quindi per intenderci io intendo che proprio il vino deve conquistare una sua identità e non più diciamo scimmiottare o far paragoni con vini d'oltre Alpe. Adesso un piccolo sguardo a Hotel 2001. Membro e docente anche naturalmente lei dell'Associazione Sommelier dell'Alto Adige e con il team di Fiera Hotel già da diversi anni adesso collaboro specialmente su tutti i temi ed eventi riguardanti il vino. Cosa possono aspettarsi i visitatori di Fiera Hotel 2021 sempre riguardo al tema? Sono appena arrivato proprio qui prima dell'intervista con lei proprio dalla Fiera Hotel perché stiamo preparando la nuova Fiera Hotel e posso dire che sarà qualcosa di molto interessante, molto intrigante quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a trovarci perché abbiamo trovato secondo me un format veramente piacevole e innovativo che non farà altro che secondo me incuriosire gli appassionati che verrà a incontrarci allo stand anche di autoctona specialmente. Grazie mille per questa intervista breve e sì anche per le interessanti intuizioni anche prospettive da parte sua e ci incontreremo sicuramente alla Fiera Hotel dove potremo poi approfondire anche la nostra conversazione dal vivo. Non vedo l'ora, l'Associazione Sommelier sarà anche presente sul nostro stand dell'Associazione Albergatori e per cui ci vedremo sicuramente. Grazie mille. Grazie a lei, lo so perché manderò anche un componente della mia squadra servizi a prestare proprio servizio presso il vostro stand quindi sicuramente farò un passaggio per controllare che sia tutto a posto. Perfetto, benissimo. Allora alla Fiera Hotel. Grazie a lei. E se anche voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici adesso avete il desiderio di un buon bicchiere di vino alto attesino abbinato a buone anche conversazioni e approfondimenti sul mondo del vino, allora la Fiera Hotel dal 18 al 21 ottobre è proprio quello che fa per voi. Ci vediamo in Fiera, a presto!